buongiorno a tutti amici del Tecno Viaggio questa mattina siamo mattutini siamo qui in centro storico a Caole per vedere un po com'è la situazione prima del famoso giorno del primo giugno che sbloccano le spiagge ovviamente con il regolamento rilasciato dal comune di Caole c'è una bella rietta fresca però al sole si sta benissimo il mare oggi è calmo c'è una bella giornata di sole c'è anche un po di gente che passeggia se a piedi c'è un po' la pizze a per me c'è un po' la pizze a per me c'è un po' la pizze a per me a per me Grazie a tutti. 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 Per oggi è tutto. Continuiamo la passeggiata e ci vediamo dopo. Un abbraccio.